Una cosa che non ti piacerà ma che farà una grande differenza nella tua vita. Due giorni fa sono partiti i miei genitori, sono stati qui con me un mese. Per stare con loro, per un mese, tutti i giorni, ho messo la sveglia tra le 4 e le 5 e mezza del mattino. Qualcuno mi dirà, ma chi te l'ha fatto fare? Questa è una frase piuttosto comune. Questo perché la gente non è più abituata a fare ciò che è difficile, ciò che comporta dello sforzo, ciò che risulta scomodo. Per ottenere ciò a cui tiene. Sono Patrizia da Setteeducati e ho già aiutato centinaia di persone che sentivano di essere di più nella loro vita, ma si sentivano incastrate in una vita che non sentivano appartenergli a seguire il percorso della loro anima per poter vivere la vita piena di significato che desideravano. Tutti vogliono successo, vogliono un lavoro migliore, vogliono più soldi, vogliono relazioni fantastiche, felici, vogliono essere riconosciuti dagli altri, vogliono cambiare la loro vita, ma nessuno è disposto a pagare il prezzo. Di chi vuole diventare, di ciò che vuole sapere imparare, di ciò che vuole ottenere. Se non lo paghi, non ti sposterai di un millimetro. Nessuno è contento di pagare il prezzo, nessuno è contento di sforzarsi, di fare qualcosa di difficile, di fare qualcosa di scomodo, ma è l'unico modo per ottenere delle cose, è l'unico modo per cambiare le cose, per cambiare la tua vita. Ti parlo ad esempio di Marco. Marco sicuramente non era contento quando gli ho detto che cosa avrebbe dovuto fare per realizzare la sua missione di vita, ma lo ha fatto lo stesso, si è affidato e anche se non era assolutamente in una situazione comoda, ha fatto quello che gli avevo chiesto, ossia tenere un corso da quel momento entro un mese. Beh, era terrorizzato, te lo dico. Ma da allora diciamo che ho perso il conto del numero di corsi che ha tenuto? Beh, è stato uno sforzo, sì, assolutamente, ma ha portato un grande risultato. I risultati sono utili perché ti portano a diventare la tua versione migliore. Ricordati che noi siamo esseri spirituali e non siamo qui per vivere una vita comoda, per non fare esperienze di vita, ma siamo qui per diventare la nostra versione migliore, per crescere, per imparare, per sperimentare. e quindi è normale che la vita voglia farti passare attraverso ciò che ti permette di crescere. E per crescere ci vuole sforzo, ci vuole scomodità, bisogna andare oltre la zona di comodità, bisogna attraversare anche delle difficoltà per poter diventare chi hai la possibilità di essere. e quindi per poter vivere la vita che è la possibilità di vivere. Per essere felice e appagato devi fare ciò che è necessario, quindi devi essere disposto a pagare il prezzo, non c'è altra possibilità. Ora ti suggerisco di fare questo esercizio che ti sarà molto utile e che potrebbe anche portare un grande cambiamento nella tua vita, sempre se lo farai. Allora, pensa a quella cosa difficile che fa la differenza nella tua vita e che non stai facendo perché è troppo scomoda e scrivimela qui sotto. Poi ovviamente falla e magari fammi anche sapere come è andata. Lo so che non è facile fare tutto questo, lo so che non è facile pagare il prezzo o cambiare abitudine. Molte persone non sanno addirittura neanche che cosa è necessario fare per realizzare i propri desideri, per vivere la vita che desiderano. In altri casi le resistenze sono talmente forti da portarli ad esistere ancora prima di iniziare. Quindi è proprio per questo, se fai parte delle persone che fanno fatica a fare questo passaggio, che ho creato il percorso Vita Straordinaria. Il percorso Vita Straordinaria è il percorso che ho creato e che dura dieci mesi, con cui aiuto le persone che hanno paura di sprecare la propria vita, che pensano di non realizzarsi, che sentono di vivere una vita senza significato, per seguire il cammino della propria anima e vivere la vita che hanno sempre sognato. E per te, se indipendentemente dai risultati che hai raggiunto nella tua vita, senti di essere di più, senti di essere incastrato in una vita che non senti appartenerti. Ed è anche diverso da tutto quello che trovi, anche se ci sono delle cose meravigliose, perché ti porta ad alzarti al mattino sentendoti vivo e pieno di entusiasmo, proprio perché senti che la tua vita ha un significato, senti che vuoi fare qualcosa di grande nella tua esistenza e sai che sceglierai le cose migliori per te perché stai seguendo la tua anima. Quindi se sei stufo di vivere una vita che ritieni ordinaria e vuota, hai bisogno di tre cose. Prima di tutto hai bisogno di sentirti libero di essere te stesso, hai bisogno di cominciare ad amarti, di sentire che stai facendo le scelte giuste per realizzare la vita dei tuoi sogni. Hai bisogno di liberarti da tutti quei blocchi, delle ferite, dalle paure, da tutti quei condizionamenti, dai devo, dai non posso, di cui non riesci a liberarti da solo. E hai bisogno di smettere di sentirti sbagliato perché non riesci a vivere la vita che vivono gli altri. Ti posso parlare ad esempio di Giorgia. Giorgia, mamma e moglie, viveva limitandosi tantissimo, mettendosi al servizio degli altri. Lei era sempre l'ultima e stava rinunciando ai propri sogni, ma sentiva che la vita che stava vivendo la stava schiacciando. Non si sentiva pagata, non si sentiva felice, si sentiva di rinunciare alla propria vita. Ebbene, dopo aver lavorato con me, lei sta ancora facendo il percorso, ha già cambiato tantissime cose, lei ha messo se stessa al primo posto, i rapporti in famiglia sono stranamente migliorati, pensa un po', e in più la cosa meravigliosa è che ha trovato il suo sogno, la cosa che è venuta a fare qui su questa terra, ossia realizzare un progetto artistico a livello mondiale che permette alle persone di tornare a sognare. Un'altra cosa di cui hai bisogno è innalzare la qualità e il livello dei tuoi sogni. Sì, perché molte persone hanno smesso di sognare. Finora potevi desiderare realizzare quello che tu conoscevi, ma questo non ti bastava. Infatti quello che andremo a fare è sbloccare la tua visione e dare nuovo significato alla tua vita, anche perché ricomincerai a sognare e a realizzare i tuoi sogni. Magari scoprirai alcuni talenti sepolti che non sai neanche di avere, potrebbero essere artistici, oppure potresti avere la capacità di aiutare altre persone. Ti posso parlare ad esempio di Cristiana. Cristiana quando l'ho conosciuta era una manager in azienda, si occupava del personale, era sicuramente ben pagata, ma era totalmente insoddisfatta, non si sentiva realizzata, sentiva che stava buttando via la sua vita, perché quello che stava facendo per lei non aveva un significato. Ebbene, abbiamo iniziato a lavorare assieme, lei ha scoperto che cosa voleva fare da grande, si è licenziata, è andata in Africa a lavorare per Medici Senza Frontiere, ha perso il peso in eccesso perché era molto in sovrappeso e la sua vita è sicuramente cambiata tantissimo e ora è realizzata, felice, appagata e si sente bene. La terza cosa di cui hai bisogno è la capacità di creare e fare accadere le cose. Sì, perché a questo punto avrai ripulito blocchi, ferite, resistenze che ti impedivano di intraprendere il cammino della tua anima, di seguire la tua anima, di sentirla, di ascoltarla e ti sarai riconnessa all'essenza dell'universo e questo ti farà sentire guidato e sicuro delle tue scelte. Inoltre ti sentirai nel flusso della vita e questo ti porterà a fare le scelte giuste per te e a realizzare anche ciò per cui hai scelto di essere qui. Ti posso parlare ad esempio di Paola, Paola architetto che si occupava di perizie per i mutui, faceva fino a 70 telefonate al giorno e si sentiva schiacciata dalle responsabilità anche perché comunque anni fa aveva perso il marito e quindi si doveva occupare di tutta la sua famiglia da sola e quindi era sovrastata dal lavoro, lavorava sette giorni su sette. Ebbene, lavorando insieme ha scoperto cos'è venuto a fare qui sulla terra ed è venuta a portare armonia, risveglio e trasformazione nelle vite delle persone attraverso l'architettura, attraverso un lavoro energetico che lei svolge sulle case e quindi sta realizzando i suoi sogni. Tra l'altro adesso quando ha un progetto per cui le serve del denaro, il denaro le arriva con facilità, lavora molto meno, guadagna molto di più, passa molto più tempo con i suoi figli ed è recentemente volata a Santo Domingo per realizzare un centro listico e tornerà lì fra pochi mesi per realizzare un ecovillaggio. Se questo è il tipo di risultati che interessa anche a te ottenere, allora scrivimi, scrivimi a info-divineconnection.one per presentare la tua candidatura al percorso Intensivo Avanzato Vita Straordinaria. E se durante la chiamata vedremo che possiamo aiutarti, allora ti spiegheremo come funziona e come fare. Un abbraccio di luce da Patrizia. Ciao!